Il terremoto di oggi di magnitudo 3.6 ha colpito nei pressi di Napoli. In Campania, Italia. La vibrazione è stata registrata intorno a mezzogiorno di lunedì 16 ottobre 2023 alle mezzogiorno e 36 ora locale. A una profondità molto bassa di 1,9 chilometri sotto la superficie del suolo. A segnalare l'evento è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, il primo organismo sismologico a segnalarlo. Un secondo rapporto è stato successivamente pubblicato dalla rete sismografica cittadina Rasberishek, che ha anche registrato il terremoto di magnitudo 3.6. Sulla base dei dati sismici preliminari, è probabile che il terremoto sia stato avvertito da molte persone attorno all'epicentro. Non dovrebbe causare danni significativi, a parte la caduta di oggetti dagli scaffali, finestre rotte, eccetera. A Cigliano. A 2 chilometri dall'epicentro. Bagnoli a 3 chilometri. Pozzuoli a 4 chilometri. Pianura a 4 chilometri. Soccavo a 5 chilometri e fuori grotta a 5 chilometri. Il sisma avrebbe dovuto essere avvertito come una leggera scossa. Deboli scosse potrebbero essere state avvertite a quarto. Situata a 6 chilometri dall'epicentro. A Napoli a 11 chilometri e a Giuliano in Campania a 12 chilometri.